il problema è che abbiamo paura basta guardarci viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare paura dei bianchi dei neri della polizia dei carabinieri con l'angoscia di perdere il lavoro ma anche di diventare calvi grassi gobbi vecchi ricchi con la paura di perdere i treni di non arrivare in orare agli appuntamenti paura che scoppia una bomba di rimanere invalidi paura di perdere un braccio un occhio un dito un dente un figlio un foglio un foglio su cui avevamo scritto una cosa importantissima paura dei terremoti paura dei virus paura di sbagliare paura di dormire paura di morire prima di aver fatto tutto quello che dovevamo fare paura che nostro figlio diventi omosessuale di diventare omosessuali noi stessi paura del vicino di casa paura delle malattie paura di non sapere cosa dire di avere le mutande sporche in un momento importante paura delle donne paura degli uomini paura dei germi dei ladri dei topi e degli scarafaggi paura di puzzare paura di votare di volare paura della folla di fallire paura di cadere di rubare di cantare paura della gente paura degli altri motivo per cui questo film è dedicato a chi ha paura